Niente contributi almeno fino a giugno per lavori a nidi e scuole materne in Valsugana In Trentino sono 24 le domande congelate Altrettante richieste per sistemare e migliorare asili nidi e scuole materne che la provincia per il momento non ha messo a finanziamento In Valsugana tre le strutture interessate quelle di Pieve e Tesino dove sono previsti lavori di messa a norma dell'edificio di Barco, frazione di Levico e di Madrano nel comune di Pergine e Valsugana Solo l'intervento in Tesino è già stato ammesso al finanziamento gli altri due sono ancora in stand by In tutto sono 5 milioni di euro fermi in Trentino che la provincia ha destinato per far fronte alle emergenze del maltempo di fine ottobre Contributi congelati per il momento ma che dovrebbero essere sbloccati entro il mese di giugno con la prossima manovra di bilancio con priorità soprattutto per gli interventi più urgenti come quello di Pieve e Tesino per una spesa di 67 mila euro Per Madrano e Barco invece i tempi rischiano di essere decisamente più lunghi